Un tir carico di cartone pressato ha preso fuoco sull'autostrada A19 Palermo-Catania nel tratto compreso tra Catena Nuova e Gerbini nella serata dell'1 febbraio. L'incendio ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Enna che hanno lavorato fino a tarda ora per domare le fiamme in collaborazione con la polstrada e l'ANAS. Il tratto interessato dall'incidente è per mani chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Il personale ANAS è al lavoro sin dalla serata del 1 febbraio in sinergia con le forze dell'ordine e vigili del fuoco per rimuovere il mezzo e ripristinare le condizioni di sicurezza sul tratto in modo da consentirne la riapertura al traffico. L'ANAS ha consigliato agli automobilisti diretti a Catania di uscire a Catena Nuova e di proseguire sulla statale 192 fino al capoluogo Etneo.